Quanto intensamente lo vuoi? E' questo il tuo punto di partenza. Le nostre azioni riflettono le nostre volontà e non quelle che dichiariamo ad alta voce, ma quelle più intime, reali. Quanto intensamente lo vuoi? Cosa sei disposto a mettere nell'occhiata? A volte vengono richiesti sacrifici estremi. Per raggiungere la verità dobbiamo mettere in gioco ogni parte di noi, ogni fibra del nostro corpo, ogni frammento della nostra alma. E spesso neanche è sufficiente. La costanza, la determinazione, sono tutte espressioni della nostra volontà. Allora cosa vuoi? Sii onesto con te stesso e sentilo fino in fondo. Cosa vuoi veramente? Lo vuoi abbastanza? Hai quella fame necessaria per ottenerlo? La risposta solo tu potrà darla e sarà il risultato finale dei tuoi sforzi. Se lo vuoi veramente, allora buttati. Fino in fondo, senza freni, senza inibizioni. Lotta fino all'ultimo respiro, fino a sentire l'ultimo briciolo di energia e lasciare il tuo corpo. Sii consapevole, porta rispetto ai tuoi desideri. Hai il dovere di combattere per loro. Hai il dovere di combattere per te. Hai il dovere di combattere per te.